Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Già, Marco era uscito un coniglio, io gli ho detto Fabio Molura, Gianco si è fatto l'unica risata che gli ho sentito fare in boh non so quanti anni che lo conosco Boh che cazzata vaga Mi dispiace, non ho, non ho un dio zio Zia, grazie per il sabgriftato, Peggy, grazie per i 14, Manco, grazie per gli 11 Sì, ma è proprio lui mi sta, c'è la maschera per lui Già, ma non ci sono Pazza quanto sei brutta, zio porco Ma non è vero, dai Ma vai a cagare, ah, e mo se fai cazzo, si fa subito a guardare i porno, ovviamente Spegni ste luci, avete rotto il cazzo Oh, non me lo fate agitare, regà, ve prego Porco Dio, ma gli hanno, ma gli hanno bustato le tette E certo, perché siamo nel 2024, tette piccole non ci sono Ma che l'antificio c'ha Porco Dio, gli hanno messo pure i codini Oh, ma che è stato? Sono gravitato, ma non so Sono più veloce, sono più veloce No, 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 no Porco Dio, Kokashi, giustamente, fratello, ha sette curva davanti Perché non provare a superare in curva No, ragazzi, dove sto andando? Ragazzi, ragazzi, ragazzi Sono diventato un treno Ahia Oddio Le macchine, le macchine Ma cos'è sta roba, ragazzi? Ragazzi Eh, sono ragazzi Non possono avere figli, io sapevo questo Come non possono avere figli? Ma no, Pesh Basta che l'occhi in FBS 120 Giovane No, fratello Ma è così Sì, sì Sì, sì Sì, sì No, 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 no Questo patto di non belligeranza dopo che sono diventato un gatto E' un gatto No, no, no E' un gatto C'è uno che vuole, che cazzo è? Ma cos'è che risponderà voi? Ok Che risponde? Chi ti ha ucciso? Un massimo sicuro Un massimo sicuro Non hai ucciso una bambina e questo lo so B Biblioteca, forse c'è Non è stato lui, ragazzi, eh Free Free bozzetti Prova C'è, c'è, c'è L'importante è che viva, tsi Sti cazzi dei, se, se, che, del resto Davanti, io prego tutti, non me ne prego un cazzo Gianmarco, Gianmarco Lecca le palle, me le devi prende in bocca Me le devi succhia tutte Ma senti Porca di... Nooo Da Ma madonna, Manu Ma guarda che no, ho sbotto, ho sfruttato male il squirb Porco di... Cazzo Porco di... 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 Ragazzi però, porco Gesù Ma non me l'ha mai presa Erano cinque stronti, zero shim Il senso, il senso Il senso Ma ma... Dio No, frate, vediamo chi imita meglio una... una esultanza del calcio Ok Vai, te con chi... con chi starti, Manu Aaaaaah Che te fai? Oddio, il maestro sta gridando Ma no, ma insomma è il grid il più disabile che abbiamo evitato Ma perché... perché ho imitato te quando giocavi Ti è partita di nuovo che hai partita Ok, che fa quel pazzo scatenato? Ok Che fa quel pazzo scatenato? Ok La cucinata, eh, come fa? Oddio Per la realtà me ne andavo sulla casa Eh, forse però... ma non so che... che braccia avevi? Eh, non c'è... Sì, sì Sì, sì, lui non fa niente tutto il giorno sta dormito Senti, ma te, ma fammi capire cosa... una cosa che non c'entra con l'arte Le mando abiti che te sei preso mezzo Viterbo Ma guarda che stiamo prendi tra Roma e Viterbo Ok, Roma e Viterbo, c'è sta, c'è sta, c'è sta Sei mezzo ai laziali? O sei uno di loro? Sì, i purini Ah, i purini Ok, va bene, va bene Va bene Ma non è vero, non ho niente Ah, Manu, sì, non c'è Porco! Parco di azazzo, ma che cazzo hai fatto? No! No! Sei tu il vero boss Non hai ucciso una bambina e questo lo so Io te l'ho chiesto a cazzo E ti ho scoperto Perché invece qualcuno ti ha... Super pallone d'oro Ok? Il vincitore in questo scontro Sarà il rappresentante ufficiale dell'Italia Il pallone d'oro europeo Non è che ne abbiamo parlato fin troppo Presentiamo i 16 giocatori di questo pallone d'oro Con i numeri... Grazie per sub, sub, donazioni, beat, compagnia Ci vediamo domani direttamente Mamma mia! Ma che cos'è? Ma è orribile! Ma che cosa fa? Ma che cos'è?